Yves Rocher è entrata in punta di piedi nella mia vita, nel senso che era proprio un hobby, un divertimento e ci è entrato per caso e mi faceva proprio stare bene. Diciamo che non vedevo l'ora di poter lasciare quel lavoro per correre là a vedere i miei prodotti Yves Rocher e quindi quando nel tempo ho capito che questa cosa poteva diventare un lavoro io lì ho cominciato a mirare e quello la volevo. Io ho proprio festeggiato il giorno di San Valentino e che era amore proprio, otto anni in Yves Rocher. Io mi ricordo un particolare, lo ricordo molto bene, di quando sono diventata responsabile che mi chiesero cosa potevano fare per farmi fare al meglio il mio lavoro. Io sono mi basta sconvolta perché nella vita non me l'aveva mai chiesto nessuno. Ma io sono molto innamorata dei valori della marca proprio perché sono comunque molto attenta alla natura, mi piace proprio stare in mezzo alla natura e quindi insomma il fatto che questa azienda sia così attento alle persone e comunque anche alla natura e faccia tante tante iniziative in realtà anche per proteggere quello che sarà il futuro del nostro pianeta per me è una delle carte vincenti. Io lo dico tanto perché non è così scontato, io credo che non ci sia altra azienda al mondo così attenta ed è una delle particolarità che io faccio notare, lo dico ditelo, non è così scontato. Una delle domande, delle tantissime domande che fanno è ma tu riesci a viverci con quello che guadagni? Si può avere tanto, si può avere tantissimo e il bello è che a seconda di quello che tu sei, di quello che ci vuoi investire del tuo tempo hai il risultato più o meno importante.